eccoci qui quest'oggi io do il benvenuto ad alberto capitanio che è qui con noi per parlarci della 42esima edizione della fiera campionaria che si terrà presso la fiera di bergamo dal 28 ottobre al primo novembre ciao alberto benvenuto ciao ciao elicia e grazie per l'opportunità che ci offrite grazie a te allora alberto tu sei il project manager e il responsabile della fiera appunto campionaria che si terrà a breve alla fiera di bergamo ci vuoi spiegare brevemente che cosa troveremo all'interno di questa fiera allora innanzitutto la fiera campionaria i bergamo un po la fiera storica come ricordavi 42esima edizione quindi diciamo è un po lo spaccato dell'offerta al pubblico da parte delle imprese bergamasche ma non solo c'è un peso lombarde e non solo allora facendo un giro nel lungo percorso o nel lungo percorso consigliato della fiera abbiamo una presenza alle istituzioni partiamo con la piazza del lavoro dove sarà possibile portare il curriculum scoprire quali possono essere le opportunità di lavoro o per le aziende scoprire nuovi talenti nuovi talenti quindi c'è la presenza di un operatore per quanto riguarda la domanda offerta di lavoro proseguendo abbiamo una vasta offerta relativa alla ristrutturazione alla ristrutturazione casa e complemento complemento d'arredo quindi un po tutto ciò che può servire per ristrutturare per il cambio dei serramenti per il portone c'è un po tutto diciamo quell'edilizia di ristrutturazione per poi diciamo imbattersi anche in proposte industriali dal carrello elevatore rispetto a altre proposte diciamo per per l'industria proseguendo appunto la fiera ha una ampia offerta di complementi d'arredo quindi il divano rispetto al materasso rispetto al tappeto rispetto a quanto diciamo per per l'arredamento e poi un'area diciamo centrale dedicata all'abbigliamento accessori articoli e curiosità per la casa ecco un po diciamo un po un po di tutto per poi diciamo la parte finale la solita e allegra area food con presenze regionale regionali un po da tutta Italia quest'anno abbiamo anche un'area dedicata al all'elettrico quindi al veicolo elettrico alla movimentazione elettrica al centro appunto della della fiera e altre proposte invece motore termico ovviamente ibrido ovviamente euro 6 euro 6 euro 7 come ti dicevo prima abbiamo anche un'anteprima di Bergamo sposi quindi un'anteprima di quanto poi offrirà la fiera degli sposi storicamente a febbraio per i futuri sposi ma non solo per la cerimonia quindi diciamo che può interessare veramente a chiunque questa questa fiera e visto il periodo particolare cosa bisogna fare bisogna avere delle accortezze per poter partecipare come ci si prenota ci vuoi spiegare anche queste cose tecniche guarda molto molto guarda molto 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 volentieri innanzitutto vabbè la fiera in linea con i tempi in linea con i tempi abbiamo diciamo l'ingresso è con green pass quindi verrà verificato all'ingresso del green pass abbiamo già fatto eh alcune fiere in questo periodo devo dire con con risultati anche diciamo eccellenti abbiamo la possibilità per coloro che ne fossero sprovvisti di fare anche il tampone all'ingresso abbiamo un servizio all'ingresso alla fiera per potersi tamponare e quindi avere la possibilità di di accedere e poi la cosa migliore è un po' quella di eh poter visto che l'ingresso è gratuito gratuito ricordo che la fiera campionaria è eh con ingresso gratuito eh da parte del pubblico quindi non non c'è pagamento ma visti i tempi è consigliabile e indispensabile diciamo prenotare la propria persona la propria eh presenza è facilissimo form.promoberger.it o comunque il sito della fiera campionaria di Bergamo che potete trovare agevolmente vi consente di registrarvi e ottenere tra virgolette il vostro pass per poter entrare in fiera ripeto gratuitamente. Bene grazie mille Alberto per tutte queste informazioni e io direi che aspettiamo tutti quindi alla quarantaduesima fiera campionaria presso la fiera di Bergamo. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao ciao